Ci sono le coordinate per le prime cinque giornate del gruppo C di Serie C, quello che comprende sei pugliesi e due lucane. La novità della stagione 2023-24 è nel calendario elastico che spalmerà le partite del raggruppamento su tre giorni. La prima pugliese a scendere in campo sarà il Cerignola, che sabato 2 settembre ospiterà in notturna il Monterisi, il Messina. Domenica sera alle 20.45 tocca invece al derby Taranto-Foggia all'incrocio del Viviani tra Potenza e Brindisi e alla Virtus Francavilla in casa contro il Picerno. Esordirà alle 16.15 il Monopoli contro un avversario che sarà definito dal Consiglio di Stato del 29 agosto, la Casertana, e in pol per il ripescaggio. Anche nel secondo turno sarà il Cerignola ad aprire le danze per Pugliesi e Lucane, trasperta a Sorrento fissata sabato 8 settembre alle 18.30 per il team di Ivantisci. Domenica 9 alle 20.45 ecco Brindisi-Catania, Monopoli-Monterosi e Latina-Potenza, tre in Monday Night da seguire da vicino, Foggia-Giuliano, Picerno-Taranto e Benevento-Virtus-Francavilla. Terza giornata concentrata tra domenica e lunedì nel primo blocco serale ecco Avellino-Foggia, Virtus-Francavilla, Crutone, Catania-Picerno e Potenza-Monopoli. Lunedì sera di derby al Monterisi c'è Cerignola-Brindisi in un programma completato da Taranto-Messina. L'eccezione alla nuova regola è data dal primo turno infrasettimanale che matura alla quarta giornata, tutti in campo giovedì 21 settembre. Alle 18.30 ecco Benevento-Taranto e Brindisi-Monterosi, mentre alle 20.45 sono in programma Crutone-Cerignola, Foggia-Virtus-Francavilla, Monopoli-Catania, Picerno-Giuliano e Ivest-Abbia-Potenza. Settembre si chiude con la quinta giornata compresa tra domenica 24 e lunedì 25. Di domenica sera ecco Avellino-Monopoli, Virtus-Francavilla-Messina e Potenza contro l'avversario che sarà ratificato dal Consiglio di Stato. I piatti forti del lunedì sono Brindisi-Benevento e Catania-Foggia in un'agenda di impegni completata da Cerignola-Ivest-Abbia, Monterosi-Taranto e Turris-Picerno. Calendario spezzatino è partita in programma in quasi tutti i giorni della settimana. Questa è la prospettiva offerta dalla nuova Serie C. Grazie.